Cosa facciamo adesso? Io vado a pianta a far cosa? A far scegliere. Che pianta hai tu? Mi devi aiutare. Questo è l'alloro. Secondo lei qua dobbiamo piantare l'alloro. Ma pianteremo piante un tocco e non lo pianteremo l'alloro per l'inquinamento. C'erano una lettera da darle. Mi scrivi la fotosintesi dai. No, è una cosa che funziona che trasforma CO2 a vendere l'ossinzione. Alla fine. Alla fine. Posso venerlo? Perché avete sempre stato l'atteggiamento di fare le azioni a tutti? Va bene. No, 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 no!